Ciao a tutti, come sapete ho da poco annunciato l'addio ufficiale ai campi da gioco ma sabato 29 in occasione della partita tra Zebbre e Munster sarò presente allo stadio e a fine primo tempo ci sarà l'opportunità per me di salutare con una piccola cerimonia i miei vecchi compagni e ovviamente tutti i tifosi. Venite numerosi allo stadio, le Zebbre hanno davvero bisogno del massimo sostegno possibile in questo periodo quindi ci vediamo sabato 29 alle 18, ciao!